Vai 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 Pazzesco! Allora ragazzi intanto scusate perché ero convinto di aver già fatto il video Sono con generazione di saggio se non l'avete capito E invece non l'avevo fatto, l'avevo fatto con altri ragazzi milanesi di HotSavant Eh 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 Non mancherebbe però Ciao, no, 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 no Non ci aveva intervistato a noi Ero convinto di sì, i neuroni scasseggiano Trasparenze, è quasi finito In realtà c'è il concerto ancora Ma è mia colpa Era bello quando avevo capelli Abbiamo fatto cantieri, siamo stati una settimana Cantieri, trasparenze, due battute, dai Bellissimo È stata un'esperienza molto... Macchina in scena o non si poteva dire? Si dice, si dice Per la prima volta per generazione di saggio ha creato un'evasione con una panda in scena Abbiamo lavorato sul concetto di evasione per cinque giorni Ci siamo scatenati i neuroni da creatività Insieme alle altre compagnie La mitina consulta La consulta alla grande Abbiamo dormito a Rubiera Abbiamo fatto avanti e indietro dalla corte ospitale Area Festival, Santa Chiara Bellissimo, fantastico Che fate prossimamente? Il vino anche Il vino? Tanto cuore Tanto cuore Poi Bella l'etichetta Alle 3 di notte il vino Salutiamo il ragazzo che mi ha fatto l'etichetta Siamo grandi Dai che fate prossimamente? Ferie? Sì, ferie, sì Tutti i giorni in cui noi lavoriamo sono ferie Ok Abbiamo due repliche adesso a Gay Village a Roma Quando? 29 giugno E poi il 21 luglio Il 21 luglio Sì poi abbiamo Creva il core Qui vicino ai Bolognesi Buongiorno ragazzi andiamo per questi ragazzi Ma che spettacolo fate? Dopo di che stasera mi butto il primo E poi pensiamo ad un terzo Fatto qui a Trasparenza due anni fa Esatto, il primo contatto con Trasparenza è stato dopo di che stasera mi butto Mi compro una maglietta di Vigione Nazionalizzata L'ha detto L'ha detto Dai oh, metto il link qui Mettete e condividete Questi ragazzi ne hanno bisogno Perché sono disagiato Va bene Poi il percentuale quant'è? Sì, 10% 70-30 no? 70-30 E' un'altra roba Ciao Ciao Fantastico